bentornati amici andiamo avanti col libro tafti la sacerdotessa il permesso dunque miei tesori nell'ultima lezione avete imparato che le chiocciole stupide cercano sempre di insistere sui propri scenari di sviluppo degli eventi e quando qualcosa cozza cozza contro i loro piani esse si indignano e diventano persino furiose ma ovviamente non si tratta di voi non è vero miei fantastici amici affinché la sceneggiatura vi lasci voi dovete rilasciarla per primi se il fine è stato posto la sceneggiatura da sola si compone si allinea in modo tale da raggiungerlo insistendo sul vostro piano interferite nella realizzazione della vostra impostazione manifestando avversione vi impostate da soli una realtà ancora peggiore per contro scegliendo di trarre beneficio ad ogni evento otterrete il beneficio ripetiamo questo principio paradossale bisogna impostare non la sceneggiatura ma il fotogramma del fine vostro compito è sapere il risultato ciò che volete ottenere e impostare l'inquadratura corrispondente della realtà in pensieri parole immagini utilizzando la vostra treccina allora la sceneggiatura stessa vi guiderà e vi mostrerà in che modo nel momento in cui cercherete il beneficio inclusi in una determinata situazione vi staccherete al contempo dal vostro solito copione dannoso e passerete a una pellicola utile anche senza la treccina se invece eseguirete anche l'algoritmo del beneficio per il tramite della treccina le cose si svolgeranno in modo più veloce e migliore prima non appena qualcosa non andava per il verso giusto vi indignavate e cominciavate ad agitare le mani e pestare i piedi ora non appena qualcosa non va per il verso giusto esclamate mentalmente o ad alta voce come preferite beneficio e dopo permettete al mondo di organizzarvi qualcosa di carino o aiutarvi o avvicinarvi al vostro fine come vi comportate di solito quando succede qualcosa o vi inalberate o accondiscendete obbedientemente in entrambi i casi agite in modo inconscio seguendo la sceneggiatura la differenza con l'algoritmo del beneficio sta nel fatto che quando lo seguite fate una scelta consapevole in uno stato di presenza e ciò significa che camminate in un film messo in pausa come un personaggio che ha preso vita ma al contempo finge di non essere vivente il principio del beneficio propone tutto in un unico flacone monitoraggio simulazione presenza e impostazione della realtà fate attenzione quando monitorate il beneficio inclusi in un certo evento è come se con la coda dell'occhio osservaste la realtà nessuno sospetta nulla nella sceneggiatura nei personaggi circostanti voi come tutti questi dormienti recitate diligentemente nel vostro ruolo svolgete le vostre funzioni quotidiane ma nel frattempo con la coda dell'occhio seguite quanto quanto avviene intorno a voi siete presenti senza tradire la vostra presenza questo è esattamente ciò che serve fare rimanere inosservati e fare come se il caso non fosse vostro è molto importante fare come se il caso non fosse vostro è il principio fondamentale del camminare dal vivo in un film in primo luogo non bisogna tradire la propria presenza in modo che gli altri non vi trattino con sospetto e circospezione fingete di essere addormentati in secondo luogo non bisogna agire frontalmente come siete abituati a fare cioè prendere la realtà per la gola lottare con gli eventi e personaggi del fotogramma in corso col risultato di sprofondare nuovamente nella sceneggiatura come nel sonno camminate dal vivo in un film solo quando siete presenti con l'attenzione mentre con l'intenzione spostate il fotogramma in arrivo e cambiate la pellicola ma con quale intenzione con quella esterna questo è importante spiando di soppiato la situazione e facendo finta di nulla finirete infatti per coinvolgere il centro esterno dell'intenzione bene signori ci fermiamo qua per ora la prossima volta parleremo della sceneggiatura ciao ciao